Prima notizia di oggi, il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato lo scorso 15 aprile il decreto 23 marzo 2021 sulla riduzione pari al 16,36% per il 2021 dell'importo dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La regola che individua è beneficiare l'andamento infortunistico aziendale individuato in base a criteri differenziati a seconda che l'azienda abbia iniziato o meno attività da un biennio.